Musica Sono quelli che sembrano sempre lontani, distratti Sai quando sei davanti a qualcuno e ti domandi Ma mi starà ascoltando? Ma mi ama? Ma ha capito? Ecco, quando non hai una risposta per tutte queste domande Probabilmente sei davanti a uno sfiorato Gli sfiorati possono attraversare delle cose meravigliose o anche cose terribili Cose che magari gli altri nemmeno vedono Cioè qui siamo in un altro mondo